La Banca del Plasma della Regione Veneto contro il coronavirus La Sanità della Regione del Veneto ha sperimentato e confermato che i pazienti che hanno avuto la malattia sviluppano anticorpi che sono in grado di inibire l'infezione causata dal coronavirus. L'efficacia del risultato dipende dal quadro clinico generale. La persona per donare il plasma deve aver contratto la malattia. Se ha avuto solo il tampone positivo ma senza sintomi oppure se ha avuto sintomi ma non è sicuro di avere avuto il coronavirus, non è idonea a donare il plasma. Negli asintomatici la quantità di anticorpi non è sempre sufficiente per curare il malato. Le ULS invieranno una lettera a chi ha contratto la malattia, invitandoli a recarsi al centro trasfusionale della propria città e aiutare concretamente la guarigione di altri pazienti.